Continua la linea dura del questore di Salerno Giancarlo Conticchio contro la vendita di alcol a minori. Un locale è stato chiuso per 12 giorni a Sarno per ordinanza di chiusura emessa proprio dal questore Giancarlo Conticchio. Si tratta di un locale già sanzionato in passato che era solito organizzare feste dedicate in modo esclusivo ad un pubblico adolescente prevedendo il versamento di una quota di partecipazione che dava diritto al consumo di bevande alcoliche. In un paio d'occasione durante queste serate qualche minore ha dovuto ricorrere alle cure mediche ospedaliere proprio a causa dello stato di alterazione per eccessivo consumo di bevande alcoliche. Il locale si trova nel comune di Sarno e proprio nell'ambito di una mirata attività di intensificazione dell'attività di controllo degli esercizi pubblici mirato a contrastare il consumo di bevande alcoliche un fenomeno che colpisce una fascia di età sempre più bassa. I poliziotti del commissariato di Sarno hanno scoperto e notificato l'ordinanza di sospensione delle attività esercitate nel bar che dovrà ora restare chiuso per 12 giorni.